L'innovazione di questa nuova apparecchiatura che si chiama ETHOS è quella di avere un sistema di intelligenza artificiale a bordo. Si tratta di un supporto molto importante per noi clinici, radioterapisti e oncologi, perché ci consente seduta per seduta di vedere le modifiche che avvengono durante la durata di un trattamento di radioterapia. Voi dovete pensare che ogni giorno possiamo avere degli spostamenti della posizione del nostro bersaglio tumorale, degli organi a rischio, che possono ovviamente essere dislocati giorno per giorno per delle condizioni anatomiche o per il cambiamento stesso delle dimensioni del tumore che si può ridurre seduta dopo seduta. Quindi la possibilità di vedere quello che accade grazie ad un imaging di ultima generazione, ma soprattutto grazie ad un computer, un software, l'intelligenza artificiale ci propone il piano di cura del giorno. Quindi ogni giorno siamo in grado di effettuare una radioterapia che noi chiamiamo adattativa, che si adatta alle condizioni anatomiche della sede di interesse. Minimizzando il coinvolgimento degli organi sani, aumentando la dose sul tumore e quindi rappresentando l'ultima frontiera della radioterapia. Questo tipo di radioterapia di per sé è molto versatile, nel senso che come tutte le radioterapie è applicabile in tutti i casi di tumori solidi localizzati in una determinata sede anatomica. E' chiaro che però, essendo molto complessa, questa modalità per cui noi ogni giorno proponiamo il piano di cura del giorno e quindi riadattiamo le condizioni, si presta soprattutto in quelle situazioni in cui il tumore può modificare giorno per giorno le sue dimensioni. Penso ad esempio ad un tumore del distretto cervico-faciale, quando il paziente può dimagrire giorno per giorno e può avere dei cambiamenti anatomici che possono anche influenzare la posizione del tumore o anche nei trattamenti prostatici in cui la prostata può essere dislocata nel momento in cui abbiamo ad esempio una vescica più o meno piena, un retto più o meno vuoto, la prostata che si trova in mezzo può subire queste modificazioni della sua posizione e quindi noi possiamo ogni giorno vedere e correggere il piano di cura giorno per giorno. Con questa apparecchiatura il Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'IRCS di Negrar può offrire ai suoi pazienti il massimo di tecnologia. Il massimo di tecnologia perché abbiamo già un'apparecchiatura che si chiama Unity, che ha una risonanza magnetica a bordo, che è l'unica in Italia, una delle poche presenti al mondo. Questa nuova apparecchiatura si affianca potendo offrire ai nostri pazienti la soluzione ideale. Nel senso che andiamo a selezionare paziente per paziente in base all'anatomia, in base alle condizioni della malattia per poter offrire il trattamento adeguato con la macchina più adeguata sapendo di poter avere a bordo delle apparecchiature che sono sicuramente di ultima generazione e che ci consentono una precisione che in passato con la radioterapia era assolutamente impensabile. Con la radioterapia riusciamo a curare tantissimi casi, parliamo di trattamenti radicali proprio perché hanno la finalità di eradicare la malattia tumorale, tumori primitivi ma anche in casi metastatici, in pazienti selezionati, cerchiamo di alzare la sticella dalla palliazione all'aspetto curativo, cioè contribuire insieme ai farmaci a poter dare a questi pazienti una ottima qualità di vita e nello stesso tempo controllare la malattia più a lungo possibile e in alcuni casi anche poterla risolvere.